di pirati tedeschi eccetera eccetera, che persino Monti si è fatto fare dall'agenzia per poi dopo è vuota, se andate su perlagentamonti.it c'è la piattaforma in cui puoi procedere e dare i tuoi contributi, questa roba qui tecnicamente esiste già e Grillo ha sprecato questa occasione, per quella cosa che dicevi tu, democrazia diretta ma sotto la mia vita, lei non è riuscita a risolvere questa contraddizione, però non è vero che ha abbandonato l'idea di democrazia diretta, lui continua a ripetere, ma lui dice la democrazia rappresentativa è finita, io voglio la democrazia diretta, come? Non lo sa, non lo sa davvero, è proprio una mancanza di competenza e il suo limite è che è un santo in banco, non gli viene in mente che dovrebbe semplicemente prendere 10 persone, meno dal punto di vista della risoluzione del tema di democrazia diretta online, perché non è un problema tecnologico che è quello che lo risolve in casa legge, è un problema anche organizzativo e lì non lo può risolvere Grillo da solo, questo è il suo limite, però non sono d'accordo, non è così, se ti ascolti le ultime cose lui continua a dire, la democrazia basta, io voglio la democrazia diretta, quando dice sono la mia guida perché ha visto chi gli entra in casa e lui diceva se no mi entra in casa tutto un curto, quando ero in Sicilia diceva certo devo starci attento, dobbiamo selezionare, dobbiamo stare molto attenti a queste liste perché se no mi entra in casa tutto un curto, il problema non è solo perché lui ha molto l'idea non i pregiudicati, non quelli indagati nemmeno, insomma che non sia tutto un curto, ma non c'è solo quel problema, il problema è chi insomma non sa fare, non ce la può fare, non è così, anche non tutti possono far tutto perché se no siamo nell'idea che siamo onnipotenti e lui un pochino si sente onnipotente, questo sì. Però in buona fede, credo. No ecco non credo questa cosa, cioè non è che non sa, non vuole, anche perché il ritratto di un personaggio che utilizzo benissimo in media non va molto d'accordo per il ritratto di un genio che vorrebbe tanto democrazia diretta ma non sa come applicarla, povero per non avere competenze, non ci credo assolutamente a questo problema. Non vuole applicare una democrazia diretta anche perché altrimenti il suo ruolo di capo sarebbe già stato messo in istituzione. Ma sai, sì, lì possiamo interpretarlo in diversi modi, cioè sì, poi posso anche essere d'accordo con te, però non pensare che sia strategico, cioè lui una cosa la sa bene, che è quella quando io dico sa benissimo usare media, ci credo davvero, quella cosa di lì è espertissima in quello. Forse fa l'errore di pensare che da lì deriva il resto. Ecco, questo sì. No, no, ti posso finire se no? Sì, certo. Tutto questo, insomma, il linguaggio che si sta usando dell'errore, della buona fede, ecco, non lo condivido per nulla. Anche la questione di Casa Parma, una persona, una persona diciamo così attenta ai media, quando ha 45 telecamere di tutte le tv italiane davanti, sa benissimo che quello che dirà, tanto più sarà forte, tanto più uscirà poi pubblicamente. Quindi non ha fatto uno scivolone, per come lo vedi su Casa Parma, perché come lo vedi io, ad esempio, lì si è fatto un ragionamento di un altro tipo, sul quale forse è esagerato. Cioè, ad esempio, il fatto che lui ha corteggiato per un po' un elettorato, diciamo, di delusi di sinistra, ma realmente il tipo di elettorato che ha sempre cercato di prendersi, infatti i suoi tour anche non tutto pubblici lo dimostrano, ad esempio l'elettorato di uso della Lega molto di più, o anche l'elettorato di destra, per come si sta configurando il panorama, diciamo, dei soggetti che si presentano nelle elezioni politiche, con la lista in groglie da un lato, il PD, eccetera, eccetera, lui ora, forse anche un po' nel puntativo di ridurre i parlamentari, questa è una interpretazione per me interessante, sta cercando di virare un po' più là, perché ha cominciato a perdere il terreno a sinistra, anche per dichiarazioni che ha già fatto sui migranti, su altre questioni, ha voluto dare a due mesi dalle elezioni, in piena campagna elettorale, uno spostone un po' più forte, che infatti si è visto, ma tutto sommato, nonostante questa apertura pubblica a casa Parma, da parte le commissioni di uno a Parma, in qualche uscita, sono rimasti tutti zitti, in qualche modo quelli del suo partito, cioè del suo movimento, non è che ci sia stata una grande elevata risposta, a me questa sembra una scelta consapevole, non riesco a immaginare Grillo che di fronte a Emilia se ne esce con una cosa del genere, che non è poi una battuta, sono minuti e minuti di dialogo e di apertura sostanziale al movimento di casa Parma, che lui sa che cos'è, non è neanche che si è trovato di fronte a dei ragazzi di destra, che sono un po' indefinito, quindi credo molto poco... Allora, tu stai dando una lettura, allora ok, capisco cosa vuoi dire, ti posso anche dare ragione, nel senso che, sai, poi io, come dire, né tu, né io, siamo nella testa di, esattamente, è la lettura che io ho dato del video contro la Federica Salsi e Giovanni Favia, cioè anche per me era consapevole, su questo ho avuto una discussione con Scanzi che invece l'ha letta come un errore. Secondo me è invece, dal punto di vista dell'obiettivo da raggiungere, c'era l'idea di dare uno scossone per stringere, ok, ne perderò alcuni ma non importa, ok, resta con me chi mi crede. A questo punto tu stai dando questa stessa lettura dell'episodio della notte lì su casa. Sì, io non sono certa, dal mio punto di vista così mi sono detta, qui forse non era totalmente consapevole perché mi sembrava estremamente rilassato ed estremamente, un po' così, più sul cazzeggio, però sai, dovrei rivederlo, non ho fatto un'analisi proprio del video e poi boh, chi lo sa. Tu stai dando una lettura, ci può stare, ci può stare una maggiore consapevolezza e ancora nella direzione, io la vedo un po' nei termini della riduzione del consenso, cioè ne perdiamo degli altri e non importa. Non fanno una piega perché c'è un cemento lì in mezzo che non è davvero e lo vedi se stai lì a leggere i commenti, cioè non è l'adorazione del capo, assolutamente, cioè questi si trovano e discutono e fanno e progettano fra di loro, anche con tante ingenuità, stanno riproducendo formule assembleari, facendo i pasticci con le votazioni, volendo negare sempre ogni forma di rappresentatività, quindi la famosa storia dell'uno vale uno, fanno del gran casino ogni volta, si incasinano in questo tipo di processi decisionali a cui non trovano una soluzione, ma sono sempre facciate, Grillo non c'è quando questi si trovano, capito? E credo che sia quello il cemento, per cui sono pronti a leggere come una cazzata l'interpretazione, ma figurati se Grillo è fascista, ma voleva dire che ci può essere, capito cosa intendo? In questo senso mi scuso, cioè non sto dicendo buona fede, sì mi rendo conto che è un'espressione poco scientifica, cioè è un qualcosa che proviene dall'aver visto una coerenza non volta a, non lo so, io non ci vedo delle derive che direi fasciste, nel senso non ce ne vedo più di tanto, perché non ci vedo la violenza per esempio, perché non ci vedo l'imposizione, cioè la gente in mezzo fa le cose per prove d'errori, secondo un'idea che se vuoi molto ingenua e pasticciata di democrazia diretta che tutti non sanno bene, poi non sa neanche cosa voglio dire, questo è un po' come, poi vedremo, è anche una novità molto forte per cui posso sbagliarmi, attenzione c'è. Un paio di cose che mi frullano per la testa, cioè nel senso poniamo anche il fatto che Beppe Grillo sia in buona fede, buona fede lo semplifico ulteriormente, poniamo che non sia la persona che si mette in politica o fa il politicato per avere potere, proprio il desiderio. Dopodiché non candidarsi non vuol dire non avere potere, poniamo anche che sia così, dopodiché ci sono delle modalità che però producono degli effetti, nel momento in cui si entra in politica il narcisismo, qualità egregia nel teatro può diventare autoritarismo, nel momento in cui si è assolutamente centrati su se stesso e su quello che si dice. Questo secondo me non è staccato da come si usano i media. Mi sono dimenticato di dire una cosa, poniamo che Beppe Grillo sia in buona fede, ma comunque anche se è così alcune cose non si spiegano, vedi le impurazioni, nel senso che lì invece c'è una ricerca di un tentativo autoritario su quello che è il Movimento 5 Stelle, effettivo, cioè ci sono le impurazioni. Secondo me, dicevo, ci sono degli effetti sulla comunicazione. Faccio un esempio, in un'introduzione ho accennato brevemente ai movimenti spagnoli, nel senso che tutta la comunicazione attorno al Movimento 5 Stelle è centralista, vale a dire che tutto parte, tutto finisce e tutto filtra tramite non solo il blog, ma la stessa figura di Beppe Grillo. Da questo punto di vista, quando ci fu il Movimento 5 Stelle in Spagna, che sfruttava molto i nuovi media, l'incontro, Beppe Grillo andò all'epoca a Barcellona, l'incontro indignato su Beppe Grillo non poteva funzionare, perché quel movimento lì che si pone anche il tema della democrazia diretta è partecipata, utilizzando i media in maniera molto più avanzata, nel senso che banalmente si tratta di un movimento, anche solo guardarlo dall'Italia, non ci sono leader, le parole d'ordine ci sono, ma non sono mai strillate, c'è più attenzione al processo di costruzione ed è sempre quello che emerge in ogni caso, addirittura quando sono scesi in piazza mostrando loro stessi che facevano l'assemblea, da questo punto di vista del centralismo di una persona, di un leader o di alcuni leader non c'è assolutamente. Quindi mi sembra interessante questa diversità. Il fatto che tutto passi da Beppe Grillo, quindi è una persona centrale che si fa garante, ha un che a che fare, ha qualche elemento in comune con il fascismo, nel senso che Pilato mi riferisco a Chisabano, mi riferisco precisamente a Forza Nuova o altre, all'autoritarismo, nel senso che l'autoritarismo è fatto in questo modo qua, ossia si delega qualcuno, un gruppo di persone a prendere parola a nome di tutti e quelli hanno sempre ragione, c'è un centralismo sempre evidente nell'autoritarismo, quindi anche l'uso dei nuovi media da parte di Grillo produce degli effetti che anche qualora lui fosse in buona fede aprono evidentemente a una politica autoritaria o a gruppi politici autoritari di estrema destra, in questo caso Casa Pound è stato quello più citato. E non ci si può non porre questo problema anche se si ritiene una persona in buona fede. Dopodiché c'è anche una contraddizione in termini, fino adesso abbiamo detto che lui è molto bravo, essere molto bravo comunicativamente e in buona fede e non placare queste derive può essere un po' un controsenso. Allora sì, facciamo un po' di ordine perché lì ho usato questa espressione di buona fede e ho sbagliato io. Vorrei dire parola torno indietro. Allora, secondo me la differenza con gli indignados e con le sperimentazioni di democrazia diretta che sono venuti in altri paesi, attenzione, non in Italia, è talmente tanta la differenza che io non farei il paragone. È un'altra cosa, completamente. Non c'entra niente. E questo è un problema dei movimenti italiani. Cioè, lui è mandato a fare, è riuscito, cioè il tipo di persone che partecipano... E non nasce da sentimenti simili. Cioè da una lontananza dalla politica, da un'efficienza di... Esatto, esatto. Questo è un problema dell'espezione italiana. Cioè che ci fosse bisogno del comico Beppe Grillo. Questo è un problema. Cioè, però io non... Quando tu mi dici, indignados a spagnoli e ai pirati tedeschi stessi, io dico un'altra cosa. Cioè non farei neanche il paragone. È un'altra storia. Questo è un problema. Per l'Italia. Questo sì. Cioè, a questo punto però fa il paio con quell'affermazione che lui fa spesso. Cioè, riempiamo un vuoto che altrimenti sarebbe occupato da cosa? Allora, lui provocatoriamente dice da un'alba dorata e da non lo sappiamo. Secondo me, da niente. Cioè, questo è il problema della situazione italiana. Questo è il problema della situazione italiana. Perché in Italia non c'è una sperimentazione di democrazia diretta come è stata fatta in Spagna? Perché le piazze madrilene di Barcellona si sono riempite quelle italiane? Sì. Diciamo che tendiamo... Capito? Non si sono... Poi c'è la... E poi finisce. Perché non c'è questa mobilitazione permanente? Perché per me... E qui c'è tutto un discorso sui movimenti in Italia. Perché a un certo punto arriva Beppe Grille e fa quel che fa a partire dal va fa dei? È un'altra cosa. È un'altra cosa. Siamo assolutamente d'accordo quando tu dici non c'entra niente. Allora, non mi piace usare la parola fascismo come non mi piace usare la parola fascismo quando dico fascismo di Berlusconi. Perché il fascismo è una cosa precisa e la riesco a capire e contestualizzare sempre una estensione. Che storicamente non vuol dire nulla. Quando tu mi dici autoritarismo eccetera, allora ci intendiamo meglio. È vero che ci sono queste cose. Poi se tu mi parli di impurazioni anche lì ci andrei più cauta perché che cosa ha fatto? Cioè lui cosa ha detto? Che la Federica Salsi in TV è meglio che non ci vada. Lui ha detto che le regole che ci sono nel suo movimento sono che i media li usa lui nel modo che vi ho detto e non ci si va. D'altra parte è un posizionamento. Se lui ha questa ambivalenza che vi ho detto all'inizio. Dopodiché il suo posizionamento è non si usano televisione e stampa. Se qualcuno del movimento contraddice questa regola è un problema. Aggiungo un altro problema. Io l'ho vista la Federica Salsi in televisione ed è meglio che non ci vada. Non è facile stare in un talk show. Cioè ci sono stata, lo so bene che è un casino. Hai un problema? Continuo perché è tutto ritagliato. Non è vero che esprimi quel che vuoi. L'effetto è sempre gestito dal regista. Punto. Quindi vi rischio. Soprattutto se ci va il geometra del piano di sotto. Portate pazienza. Lì se non faceva così si andava alla stura a che ci andavano tutti. Capite? Punto. Allora lui cosa sta dicendo? Allora so io come funziona i miei media. punto. E' un discorso comunicativo secondo me. Dopodiché l'ha fatto in modo autoritario con una forzatura per quella ragione che ho detto prima. Detto questo poi se apriamo il confronto con altri movimenti fuori dall'Italia ma anche nell'Italia il confronto secondo me produce tante e tali differenze che non lo faccio nemmeno. Però questo mi rimanda a una tristezza perché quel 18% quel 20% che adesso invece si cala e si va a dire fosse anche 12% è un mucchio di voti. E perché ci voleva Beppe Grillo con questa cosa della satira e bla 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 e il salto del buio per cui il geometra del secondo piano va lì eccetera eccetera. Perché non si poteva fare diversamente in Italia? Questo è un problema culturale italiano. Questo sì. Ecco questo è un po' il tema. Dopodiché le cose che hai detto mi trovano d'accordo. C'era l'ultima parte che non mi ricordo più su cui non ero d'accordo che era sì sulla cosa delle purazioni. Perché secondo me lì... Ah no non solo. Ero invece d'accordo anche su un altro aspetto. La questione degli effetti. È vero. È vero. Ed è il tema ed è quello che ho detto io con la metafora del dito e della luna e della cacca sul dito. Se tu sul dito c'hai la cacca non puoi dire che è stupido quello che ti guarda il dito e non la luna. Perché ce l'hai messa tu la cacca. E allora se sul suo blog c'è solo Trupiloque e un insieme vasto di idiozia di gente che non capisce niente e si limita a insultare o a sfogarsi. Capite? È un effetto del suo modo di comunicare. Strategico? No. C'è un limite alla sua strategia. Cioè attenzione. Con la sua strategia ha ottenuto quello che ha ottenuto. E uno potrebbe dire che scusa se è poco. Dopodiché secondo me lui adesso si pone il problema di arginarlo anche un po'. Poi vediamo. Perché se vi guardate alcuni video in cui lui... Cioè veramente il video di consultivo di quello che è successo in Sicilia è proprio trasparente da questo punto di vista. È preoccupato. Appesantito. E ha proprio lo dice. Aiutateci. Non dateci addosso. Non sappiamo come fare. Non so come fare. Perché cazzo. Qui si va in Parlamento davvero se detto. E chi ci manda lo sa anche lui. Ecco. che poi tutto questo sia un effetto del limite del suo modo di fare agire. Comunicare dico io. Comunicare è agire. Cioè tutt'uno. Io ho un senso vasto di comunicazione. Che si fonde con l'azione. Nel senso che in politica ti occupi di contenuti, di problemi e devi comunicare con gli altri e scambiare con gli altri proposte, soluzioni, ipotesi, condivisioni, discussioni, dissensi. È tutta comunicazione. L'azione politica come fa la scelta dalla comunicazione. Quindi il suo modo di imporsi è comunicativo e politico assieme. È azione, comunicazione e politica tutt'uno. L'effetto. Certo. Gli effetti sono questi. Cioè. Come Griglini a Bologna che hanno portato fuori. Perché lì in mezzo c'è di tutto. Perché lì in mezzo c'è di tutto. Ci può essere anche. Cioè quindi quando lui dice. Poi dopo non sai chi prendi dentro. E da un lato lui lo capisce perché dice. Devo stare attento a non prendere dentro tutto occulto. Dall'altro incluso il fatto che dicevi nel momento in cui tu sei lì e sei sulla scena politica e vai in Parlamento. Ed è una domanda che mi sono. Quanti di questi 50, 60 eccetera saranno veramente capaci fino in fondo di aprire il Parlamento come una scatoletta di tono? Non si faranno prendere dalle logiche degli altri? giorni. Inclusa la grande fantastica occasione di andare in tanti talk show e mostrarsi alla mamma che finalmente sono diventato famoso. Capite? Cioè. Dipenderà dalle singole personalità. Questo è. A questo siamo. Perché? Perché non c'è una selezione. Cioè non c'è un criterio attraverso il quale sei lì per qualcosa che sai fare. Cioè. Poi lui ti risponderebbe. Sì ma li hai visti? Ma Scilipoti era lì perché sapeva fare. Capite? E quindi è un problema della società italiana oltre che della politica italiana. Cioè lui ti risponde. Ah sì. Lasciano Scilipoti che vedrai che vuoi. E la frase l'ha ripetuta. Meglio. gli presentava e diceva. Meglio. Un salto nel buio. Cazzo. Lo diceva lui. Con questi. E poi gli guardava. Gli dava le pacche. Perché lui era estremamente affettuoso. Gli dava le pacche sulle spalle. Gli prendeva un po' per il culo. Anche. Ma benevolmente. Per della serie. Ma l'avete guardato. Dobbiamo fidarci di questo. Però preferisco saltare nel vuoto con questo. Che speriamo. Che il suicidio assistito con quelli che sono già. Questo fa e dagli torti. Capite? Capite però che è un problema che va al di là del grillo. Cioè in questo senso. Poi giù. È un problema anche nella cosiddetta democrazia diretta. La democrazia diretta. Perché io trovo che là. Appunto. Io non credo assolutamente nel concetto di democrazia diretta. Nella partecipazione diretta assolutamente sì. Ma noi abbiamo le competenze per capire dei gravi problemi che ha questo paese. Io penso no. Se li hanno in Parlamento. Eh no. E questa è la risposta. Questa è un'altra domanda. Va bene merda. Ottime premesse. No. Due cose che non capisco. Che mi sembra che siano state più o meno toccate indirettamente però non direttamente. La prima è questa questione delle competenze. Cioè lei sta parlando e anche qualche intervento ha leggermente confermato questa cosa. Come se le competenze fossero soltanto quelle individuali della persona Beppe Grillo o della persona che viene eletta. Però dietro Beppe Grillo e dietro le persone che viene eletta c'è tutto uno staff. Sia in fase pre-elettorale definizione del programma dietro Beppe Grillo c'è Casaleggio e senza perpetuare la mitologia del Casaleggio massone cattivo. Sol cazzo. Comunque è una persona con una struttura di esperti che io non ho idea di chi siano ma sono stati in qualche modo scelti. Il programma per quanto ambiziosissimo in buona parte volutamente troppo ambizioso fantascientifico è comunque un programma che delle persone che si occupano di cose hanno deciso di fare. Altrettanto dopo che si viene eletti uno non è lasciato a se stesso ma gode di tutta una struttura di persone che si ha scelto lui o chi per lui nel caso io penso. Io personalmente credo che in realtà il Movimento 5 Stelle sia molto più centralizzato di quanto non sembri e quindi penso che Grillo e Casaleggio sceglierebbero le persone da affiancare all'idraulico del quarto piano. Questo è uno dei punti. La seconda questione che mi sembra che stia toccando ma solo indirettamente lei ha detto adesso Scilipoti allora volete uno Scilipoti. Lo detto perché lo direbbe lui. Sì sì lo direbbe lui. No questo ha un po' a che fare con questa cosa delle competenze. Un po' secondo me ha a che fare anche con un'altra questione chiave di quello che è sempre stato il discorso di Grillo che è il discorso del potere e dell'opposizione al potere. Grillo nasce dalla satira anche non politica e nasce come unico baluardo contro certi poteri forti. Grillo è quello che ha detto la verità sulla telecom, su Paramalat eccetera. Dopodiché la satira politica in sé è un discorso di salvaguardia dai poteri forti. La reduxio ad corporem di cui parlava lei serve a svergognare il potente perché se viene fatta su una persona qualsiasi invece è una cosa estremamente reazionaria. altrettanto sconfessare, cioè quando Grillo sconfessa Fabia o La Salsa dice sempre sono entrati nel meccanismo della politica, sono conniventi con i poteri e il discorso da cui si distanzia è il discorso, secondo me è legato alla percezione del politico come da un lato potente, che è sicuramente vero, e dall'altro associato a un certo tipo di divismo per cui lui tiene lontano i suoi candidati a questa cosa. I miei candidati non sono divi, non sono potenti, sono persone qualsiasi e dall'altro mette in primo piano la sua faccia perché lui non è Beppe Grillo, lo è sicuramente, ma è anche il simbolo dell'antipotere. Mi sembra che ci siano queste due cose, non sono state dette tanto, quindi volevo chiedere. Grazie. Posso dire una cosa brevissima? Perché dicevamo Beppe Grillo e i nuovi media, poi effettivamente poco parliamo di nuovi media, stiamo parlando di media tradizionali, dell'uso che qualcuno sceglie, qualcuno negli ultimi anni sicuramente riempiendo un vuoto, tutto italiano, fa dei media tradizionali, perché qui c'è dei media che abbiamo, nuovi media che potremmo chiamare così, abbiamo tirato in ballo il blog di Beppe Grillo, però intanto il tema dell'organizzazione secondo me è importante, cioè che rapporto c'è tra i media, tra le nuove tecnologie, direi più che, nuovi media e l'organizzazione politica, ovviamente. E poi il fatto della comunicazione con l'esterno, cioè di come i media servono ad un movimento per rapportarsi con quello che c'è fuori. Allora, i nuovi media ovviamente sono una possibilità, poi non tiro in ballo tutto il discorso sulla naturalità della rete, su cui Grillo, secondo me c'è anche un ruolo catartico, il tema della naturalità della rete è fortemente catartico in Grillo, perché quella è la possibilità in cui ciascuno, la possibilità che ciascuno ha di sfogarsi e di pensare che sostanzialmente tutte le porte gli sono aperte tramite questo nuovo strumento e quindi c'è questo ruolo catartico di internet della rete. Però la comunicazione tra, diciamo, il movimento o Beppe Grillo e l'esterno, non c'è nulla di nuove media, cioè la comunicazione all'esterno viene preclusa a tutti tranne al blog di Beppe Grillo, dove, come dici tu, la partecipazione che non è quella del leader è reclusa al commento indistinto tra mille insulti, quindi secondo me, Beppe Grillo e i nuovi media, dove sono i nuovi media? Poi anche sulla neutralità della rete, insomma, ovviamente è utilizzato, cioè lui la enuncia, la allude alla neutralità e poi invece, ci vediamo che c'è tutta una gattura lì dentro i nuovi media, che lui... Allora, io sono talmente di... mi piace talmente un po' di risposta singola, che poi adesso faccio più fatica a tornare all'intervento di prima, che però a focalizzare delle cose che effettivamente... cioè più che una domanda mi sembravano delle focalizzazioni ulteriori su cui peraltro concordo. Forse non ci metterei dietro... cioè, da quello che ho capito io, poi non è che sono stata a casa di Grillo e... Scanzi c'è stato e racconta veramente che il fatto che si è più che altro confortato, che si conforta con sua moglie e con Casaleggio, sono quattro gatti, non c'è tutto sto staff e che lo staff di Casaleggio, quindi da come ho capito, poi ho... ripeto, non ci sono andata io di persona, da come ho capito c'è meno... c'è uno staff tecnico, ma c'è meno capacità organizzativa e meno risorse politiche, ecco, e questo è un limite. È vero che la competenza, per come l'ho rappresentata io, è dell'individuo, è dell'individuo Grillo, che crede di sapere tutto e invece sa solo molto bene di media e poi si è studiato due o tre temi ambientalisti perché viene da una satira aziendal, ambiental, ambiental, economica, no? Prima di Telecom, le sue inventive cominciarono sulla questione ambientale, quindi probabilmente su questo è quello che ha studiato di più. Dopodiché lui, per esempio, ha molto anche la retorica del dato, cioè delle volte, delle interviste che rilascia, sciorina una quantità di dati, di informazioni su quello cacca dall'estero, eccetera, ma ci fosse un cavolo di giornalista che si prendesse la briga di fare il cosiddetto fact checking. Questo che poi mi fa incazzare, mi dico, ma qualcuno lo smonti? Cioè, allora, dite questo, allora, smontate questi contenuti, c'è una quantità di robe che lui dice su singoli temi e fatele, cioè, tutti, io non riesco a farlo, mi limito a smontare la comunicazione, ma cavolo, i vari filoni dei dieci punti, visionari e tutto è omnicoprensivi e, santi Dio, ci saranno persone che si mettono lì e smontale, batti, ribatti, no? Digli, hai torto marcio perché quella roba lì è sbagliata, ti dico questo, nessuno lo fa, ma è colpa anche del fatto che c'è la cacca su questo dito e sono tutti presi da quello. In questo senso, è vero che io ho focalizzato molto sulla mancanza di competenze individuali o la presenza laddove c'è, però è così che funziona, è così che la sua roba funziona barra non funziona. Quello che è la sua individualità è quello, d'altra parte, il tormentone uno vale uno, cosa vuoi questo tormentone? È come il parossismo dell'individualismo, addirittura ridotta un numero, neanche questo mi piace tanto, uno vale uno, le persone non sono un numero, capite che c'è qualcosa di questo? Allora, non so se ti ho risposto, se le ho risposto, mi davi dell'è, perché per il resto ha integrato... Io voglio molto bene a Scanzi, lo leggo da quando scriveva su un bucchio selvaggio, ma ha sempre fatto un sacco di opinioni veramente... È troppo grillino per i suoi gusti, è anch'io, lo sapevo che è uscito di qui, che pensavano... No, ma lo pensano, lo so... No, non voto Movimento 5 Stelle, vi lo giuro, non mi interessa... Non pensate che è grillino, però... D'altra parte io ne so di comunicazione... Non se ne esce, non lo potrete mai sapere... Adesso è il nuovo in media, avrebbe da dire, a lui do del lei perché mi ha dato del lei, a te do del te, del tu mi viene da dire nel tuo caso che invece con la formula di diplomatica è la ringrazio per la domanda che mi permette, ma è vero, ti ringrazio per la domanda che mi permette di parlare di noi in media che era il tema che io ho escluso, ma non è un errore per cui l'ho fatto, è perché ritengo davvero che queste cose di cui vi ho parlato non vengano a parte Scanzi, lo dite sei innamorata di Scanzi, non l'ho mai incontrato, mi interessa e poi non è che gli do sempre ragione, attenzione, e poi sono giornalista, c'è i suoi venditi, insomma, detto questo, i nuovi media, ecco, perché arriviamo solo alla fine i nuovi media? Perché è vero che non sono il punto, perché intanto il blog di Grillo è un anti-blog, è un non-blog, è un blog dove, cioè il blog, cazzo, avesse risposto una volta in 2005, 2013, 8 anni di blogging, cioè io mi faccio il culo per rispondere, è ovvio che non rispondo a tutti, non ci riesco io che quando va grassa ho 120 commenti, quindi, però anche quando ne ho 15 non è che rispondo, non ce la fai, già buona grazia se produce un post, benissimo, non è sempre lui che li scrive, anche Casaleo, ma se anche siete in due, non riesce a, lui ne ha 2000, cioè ne ha 500 di commenti medi, ok, quindi non, e c'è un problema del non riuscire, però questa è la contraddizione del come funziona la rete, ok, bene, dopodiché la chiave di Grillo non è l'uso, non è solo, o meno, non è così centrale come la vulgata giornalistica ti fa pensare che sia, cioè lo è in maniera virtuosa dal punto di vista dell'organizzazione interna del movimento e del rapporto fra rete e territorio, in questo non fa niente di nuovo, è qualcosa che è cominciato con i No Global nel 1999-2000, i forum sociali, cioè le prime, diciamo, i primi germogli di quest'uso con numeri molto più piccoli, ma perché la rete era più piccola, l'organizzazione dei vari, delle varie manifestazioni, dei vari, avveniva attraverso la rete, non c'erano gli strumenti, non c'era il blogging, c'erano i forum e tutti i vari inti media e tutto quanto, in giro per il mondo, attraverso la rete, su singole iniziative, singoli temi, persone dai quattro angoli del pianeta si trovavano, no? Primi anni 2000, parabola che ha portato a quello che sappiamo e che si è, però dal punto di vista dell'uso della rete era già questo, allora nel 2005, nel momento in cui esce fuori con il blog, nel momento in cui poi comincia a usare la piattaforma dei meetup, in questo senso dal punto di vista organizzativo c'è un uso della rete che va a rinforzare qualcosa che avviene molto sul territorio e soprattutto si è ingrandito, non attraverso la rete, non solo per lo meno, ma soprattutto attraverso i media tradizionali, il rapporto con i media tradizionali, cioè se ha ottenuto il 18-20% il 18% in Sicilia, cos'era? Il 17%, e se nei sondaggi è arrivato al 20% fra ottobre e novembre dell'anno scorso, è perché tutto quello che ha fatto dalla traversata, nuoto, eccetera, eccetera, la corsa, perché le ha fatte di ogni, poi c'è un altro caso interessante è l'uso del corpo che fa Grillo, è un attore, l'ha attraversata nuoto, poi è andato sul carreto siciliano, poi è salito sull'Etna, poi cos'è che ha fatto? Andava di corsa, poi c'era la storia del camper, ne ha fatte di ogni, l'ultima che ha fatto è il crowd surfing a Perugia, cioè quella roba che si fa nei concerti, ti metti lì, ma cosa voleva significare? Mi fido talmente di voi, anche perché se andate a fare un giro di rete, quando ho analizzato il crowd surfing di Grillo, ho cercato crowd surfing pieno alla rete di crowd surfing falliti, cioè piccole, cioè ti butti e questi non te reggono e ti fai un gran male, ma il primo che si fece male, credo fu Phil Collins, fece un crowd surfing caduto e se ne aveva spaccato un ginocchio, negli anni 80, quindi se ce l'ho prima, te lo guardi, quindi il suo crowd surfing è riuscito perfettamente, uso del corpo, quindi tutto questo è fuori dalla rete, quello che è il Movimento 5 Stelle, non lasciamo la figura di Grillo, l'accentramento mediatico, l'uso del corpo da attore, eccetera, eccetera, ma l'esplosione è fuori dalla rete, fino anche nella Parma, una cosa che ripetevano continuamente, il Movimento 5 Stelle, il successo a Parma, il sindaco, Pizzarotti e tutto l'entusiasmo, se vi guardate quei video lì, la comunicazione che ha fatto vincere quel sindaco lì, non è mica venuto in rete, hanno fatto il porta a porta, hanno fatto il porta a porta, quindi da questo punto di vista cazzo c'è un recupero del territorio pazzesco, in questo senso innovato dall'uso della rete, è chiaro che non è il territorio del porta a porta, del vecchio pc, quando non c'era, perché? Perché è la rete che ti permette di incontrare il tuo simile laddove non l'avresti mai incontrato, cioè voglio dire, il mio condominio, famosi condominio, per quanto il mio condominio sia fantastico, come dire, tanti non so neanche chi sono, li incontro una volta, eccetera, potrei un domani scoprire tramite internet che ho una grande affinità tematica, perché appassionato di qualcosa a cui sono appassionata io, quello del piano di sopra, lo scopo tramite internet e lo trovo al quinto piano, oppure al quinto piano del mio condominio, come dall'altra parte dell'oceano, cioè la rete permette un'organizzazione, un incontro poi del faccia a faccia, espanso rispetto a quando la rete non c'era, chi usa al meglio la rete, vedi Obama negli Stati Uniti, anche qui bisognerebbe spendere un sacco di parole, perché è interessante, quello è Obama, si ho votato Obama, voto Obama non volevo dire, ma è bene. Lì c'è proprio l'ottimizzazione del rapporto fra l'uso dei nuovi media, cioè la rete internet, tutti i suoi strumenti, da Facebook a Twitter, alle varie piattaforme di meetup, chiamalo come vuoi, e fin anche di democrazia diretta, se volo, di voto online o di contribuzione attraverso la rete con proposte eccetera, tutta la gamma di strumenti che internet, che la tecnologia e la rete mettono a disposizione funzionano quando sono integrate con il vecchissimo porta a porta, con la capacità poi delle persone di ritrovarsi per strada, nelle piazze, nei condomini, nei quartieri, nei centri sociali e questo è il punto, laddove funziona al meglio, vedi gli Stati Uniti, cavolo, l'ha fatto su un territorio geograficamente vastissimo, noi siamo un microbo, in questo senso l'uso virtuoso della rete che fa anche il Movimento 5 Stelle è questo, ma non è esattamente la chiave che ti fa capire la sua esplosione, la chiave che ti fa capire la sua esplosione è sicuramente quest'uso della rete, ma anche l'uso della nostra vecchia televisione, perché Grillo viene da lì per l'ambivalenza rispetto alla TV che vi ho detto, per la sua competenza dell'uso del mezzo, per il fatto che c'è sempre e si è preso il 17% di Sicilia è perché lui ha fatto quel gran casino e quelli che affollavano le piazze, secondo voi erano che l'avevano conosciuto, ce n'era uno sotto insieme che seguiva il blog, era sempre eccetera, ma il boom l'ha fatto perché c'aveva uno sto signore che faceva cose strane, andiamo a sentirlo che ci facevano risate, dopodiché ma sai che c'è? Io voto, perché funziona così, anche perché poi c'è tutto il contesto siciliano eccetera, e lì la televisione, l'Italia è ancora un paese in cui l'83% rispondono dalla televisione, ragazzi da questo, anche perché è un paese di persone adulte, tendenzialmente anziane o stravecchie, questo è il tema, siamo un paese anziano, e poco scolarizzato eccetera, quindi paradossalmente alla fine ho parlato di poco di rete e dell'uso dei nuovi media perché credo che oltre a questo ci sia poco da dire nel caso di Grillo, la chiave non sta lì, sta in tutta questa roba che ho cercato di dirvi, dopodiché quelle robe dell'uso di rete sua sono finite qua, anche perché diciamocelo, per me è stata un'enorme occasione mancata quella delle parlamentarie, lì si è coperto di ridicolo, non si è coperto di ridicolo semplicemente perché i media non capiscono nulla di rete, ma lì c'era da massacrarlo, 22 mila che hanno votato, vuol dire che non è un problema, perché poi la rete non è che la usi e c'è neutro, è né neutro né buono, che magicamente tu sei un mago della rete e la gente vota, no, ci vuole una capillare, capacità organizzativa per cui li porti a votare, per cui il tanto vituperato PD e le tante fintissime primarie e incluso le parlamentarie, poi guardate che stanno state chiamate parlamentarie contro lui, lui si scagliava eccetera, però vogliano confrontare, comunque hanno portato un milione di cristiani a votare e lui li ha portati i 22 mila, cioè quindi è su questo, quindi sarebbe da... A costo zero il primarie del movimento, oltre a tutti, esatto, questo è un punto a favore che non mi piace sinceramente ridicolizzare il termine, anche lì ci possiamo rilasciare su quattro lo psiconano del proprio gigio, siamo assolutamente d'accordo, sono anche un po' screditante, allora, tu mi hai seguito dall'inizio, lungi da me, no, io sto cercando di fare, allora, lì c'è un altro paradosso, lui che usa il linguaggio in questa maniera che viene dalla satira, dopodiché c'è stato un momento in cui ha distruito ai giornalisti il va de mecum su come esprimersi nei confronti del Movimento 5 Stelle, quando io ti dico che sei grillino sto facendo il verso ad altri, non lo direi seriamente, perché ho il massimo rispetto, capito cosa voglio dire, per cui, però, tornando a quello che diceva lui, poiché tu c'hai la cacca sul dito, se poi un altro ti punta il dito a bosso con un'altra cacca davanti, sul suo dito, ebbè è un effetto del tuo dito con la cacca, capisci? Cioè, quindi, se poi, voglio dire, lui usa un linguaggio pronto per i media, è efficace con i media, dopodiché ovviamente non vuole che la cosa gli sia ritorta contro e quindi giustamente cosa fa? Le linee guida di come bisogna parlare nei confronti del Movimento 5 Stelle, quindi grillino lo so che è dispregiativo, certo che è dispregiativo, ed è un indicatore dello snobismo quando va bene e disprezzo quando va male che i media tradizionali, lui direbbe la cassa dei giornalisti ha nei confronti del Movimento 5 Stelle, che sono gli attivisti del Movimento. Il motivo per cui io mi sono rotta la testa per tutti questi mesi su Grillo e a un certo punto ho cambiato un sacco, ho capito un sacco di cose, mi è interessato moltissimo, c'erano dei giorni e dicevo, cazzo, ma questa roba avrebbe un potenziale pazzesco se portata fino in fondo a percorrere questa visione che dice di avere ma non ce la fa e quindi è appassionante in questo senso e mi sono poi resa conto quanto sia piccolo il buco della serratura da cui invece viene guardata dai media tradizionali che ci mettono sempre una quantità di pregiudizi e una zavorra di valutazioni negative e pregiudiziali pazzesca. Il motivo per cui poi l'ho fatto, a parte l'appassionarmi allo studio, fa parte del mio mestiere, se no non lo farei, ma è perché ero sempre, anche da prima, voglio dire, un fenomeno che comunque coinvolge masse di persone. Io dico che va sempre, non mi piace la mancanza di rispetto nei confronti delle persone che ci lavorano, capito cosa voglio dire, che che si legge, si intravede, anche nella denominazione di grillino, cioè quella roba lì è cresciuta, non va sottovalutata, va presa in considerazione, va capita e occorre andarci dentro, cioè non esiste, cresce continuamente, tu continui a chiamarvi grillini ma sei un coglionito. Attenzione, è nella stessa maniera che poi eventualmente ci fossero delle ricadute diciamo pericolose di un certo tipo, io non c'ero, non me ne ero accorto, poi ti ritrovi che c'è stata una deriva autoritaria, mi fa paura, beh, ti fa paura e non ci guardi dentro, mi fa paura e non liquidi con due parole dispregiative, mi fa paura e ti limiti a andare a vedere che cosa ti raccontano sempre le stesse parole, le stesse immagini, perché se vi fate caso sono sempre le stesse immagini, sempre le stesse parole per cui uno torna, ok? E questa è una delle spinte del capire di più, anche perché credo che, e lì scopri davvero che ci sono le famose facce pulite, il geometra del piano di sotto, l'insegnante del piano di sotto, è vero, cioè c'è gente che non ha niente, anzi ti dirò di più lì, l'impressione che ho avuto io è che quelli proprio attivi siano meno quelli, cioè l'insulto per l'insulto sul blog, cioè la rete è un serbatoio di spoghi, spesso quello che fa tanto la voce grossa, che dietro l'avatar l'anonimo eccetera eccetera, io poi ho un blog sul fatto quotidiano quindi lo so bene, cioè i lettori del fatto quotidiano, e poi sono spesso, perché mi sono messa anche lì delle volte che ho un po' di tempo, dico vediamo se riusciamo a smontare il troll di turno e se ti metti lì, usi un po' di tecniche psicologiche, questa volta che ho un'amica psicoterapeuta che me le passa, è una cazzata, cioè il troll più cattivone delle volte lo smonti proprio BOOM! Quindi la mia impressione è che quelli che poi dopo si trovano davvero nei centri sociali, negli scantinati dei condomini a fare la politica attiva sotto l'etichetta del movimento, non sono proprio quelli che insultano, cioè sono quelli davvero un pochino più civili, questa è anche un po' una speranza. Ecco, capito come? Perché poi l'inventile in rete, spesso, cioè chi fa la voce grossa in rete non è esattamente sempre quello che poi mena la clava per strada, sono due profili psicologici diversi. Ecco, quindi di nuovi media alla fine, nel movimento 5 Stelle, secondo me c'è meno, perché poi siamo un paese poco digitalizzato, c'è anche questo, c'è il digital divide, quindi vabbè che siamo cresciuti, siamo al 58% di accesso all'internet, ma siamo sotto la media europea, cioè in Svezia il 97%, in Inghilterra il 74%, negli Stati Uniti l'80%, gli Stati Uniti, capito, hanno un territorio enorme, con le campagne, ma c'è la periferia negli Stati Uniti, la casalinga di Voghera è una raffinata intellettuale rispetto a quella che ci può essere in un'entroterra, in un'entroterra statunitense, cioè lì c'è una oda che, capito, c'è di certi parti, quindi non dobbiamo qui, eppure hanno il 75% di accesso alla rete, poi dopo l'uso della rete, quindi siamo anche un paese con dei problemi di digital divide ancora spiccati, quindi in questo senso l'esplosione non può, già è bell'Italia pensare che con la rete si possa fare un partito di massa, può usare anche la rete, poi sta crescendo, poi sta crescendo, ovviamente questo sarà sempre più vero, sarà sempre più vero, però dipende anche da come la usi. Certamente un blog in cui parla uno e gli altri si limitano a, il tema è che cosa ci fa in rete, cioè il digital divide siamo al 58% eccetera eccetera, poi la percentuale di usi competenti si parla di cifre che vanno fra il 20 e il 30%, attenzione che una buona dose di uso della rete è la frizione della pornografia, quindi perché esplodere, è motivante, è pazzesco. No, sul porno chiuderei, nel senso che sono le 9 e mezza, abbiamo iniziato quasi da due ore. Grazie Giovanna Cosenza e grazie a tutti voi che avete assistito.